Cassa Depositi e Prestiti che raccoglie il risparmio postale degli italiani ha deciso una serie di misure urgenti a favore dell'economia. Vengono rinegoziati i mutui con i comuni che così potranno contare quest'anno su risorse in più per 1 miliardo e 700 milioni. Altri 2 miliardi vengono resi subito disponibili per le esigenze delle grandi e medie imprese.